Bisogna vincere! Vincere e vinceremo! Che ce lasciate qua? Ispirato al capolavoro letterario di Elsa Morante Bel giorno, sai che famigliettina? Partimo per l'America Con Jasmine Trinca Vai, corri! Elio Germano Hai capito che c'è la guerra, sì? E con Valerio Mastandrea Almeno non dove danno un giro a cercare da mangiare Per la regia di Francesca Archibugi La storia Da lunedì alle 21.30 Raiuno